Oggi sono qui con voi per vedere un'arma molto 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 particolare, la Zeppi Daio Manzuka o Shiga's Launcher. Perché vi sto parlando di quest'arma che non è unica, non è leggendaria. Cosa c'entra? Quest'arma in realtà è una unica. Potrebbe essere una leggendaria, ma non è segnata, non è stata programmata nel modo giusto, non si sa se intenzionalmente o no. La potrete ottenere sconfiggendo Shiga alla Devil's Razor dopo aver completato la sua relativa quest. E appunto quest'arma è particolare perché la otterrete ogni singola volta che la sconfiggerete, sarà sempre questa, con delle parti specifiche, ha degli effetti unici. Quando colpite un nemico i proiettili esplodono lanciando delle molle e dei rottami tutti intorno, cosa che nessun'altra arma fa. Per questo si può confermare che è una unica. Però per qualche motivo non è stata inserita come unica all'interno del gioco, non si sa bene perché. L'arma è relativamente decente da utilizzare, anche se c'è di meglio. È praticamente forse l'unica leggendaria, per quanto appunto leggendaria non è COV. Perché parlo di leggendaria? Perché di solito le armi uniche non hanno parti aliene, i tech, per parlarle allo stile di Borderlands 2. Questa qua, dalle parti che ha, dovrebbe essere considerata una leggendaria da gioco, ma viene considerata una viola. Probabilmente perché è stata programmata così, un po' come il Super Stream che abbiamo visto in passato. I motivi per cui tutte queste cose ci sono non li sappiamo e probabilmente non li sapremo mai. Però è interessante vederle e scoprire tutti questi dettagli. L'arma, l'avete vista, è relativamente decente, ma sicuramente ci sono dei lanciarazzi migliori. Come ad esempio questo qui.